Bussola Fox di tipo militare. La bussola è fornita con una piccola custodia in cordura, in cordura chiusa al velcro con passante per cintura. La bussola è interamente in metallo, interamente in metallo con la base in polimero, il resto è tutta metallica. Abbiamo la parte che traguarda millimetrata, la ghiera regolabile, la lentina di ingrandimento. E' molto interessante, una volta chiusa la parte esterna è tutta millimetrata e sotto troviamo una una rotellina che quando viene girata viene fatta passare ovviamente sulle cartine e seguendo il percorso è in grado di conteggiare i chilometri con ben due scale di riferimento.